Sono sfiacente, ma presto tirerai le cuoie a mio caro Che rapidità e che magnifico portamento nell'azione Ma chi è questo diavolo? Sei uno stupido, Ken Era la quarta volta che venivi a rubare patate nel mio campo, ma ti è andata male? Forza amici! Attenzione, adesso userò la tecnica del sacro colpo dell'orsa Nessuno ha mai resistito al sacro colpo dell'orsa La sacra scuola di Okuto esiste da più di duemila anni Non sarà certo un lestofante come te a cambiarla né a battere un suo gran maestro Peccato che non avendo le mani tu non possa prenderla Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò